...essere schizzinosi, osservati. No, fermo! Oh no, oh no no no, che facciamo? No, no, vado a chiamare papà. Puoi anche credere di essere uno chef, ma sei sempre soltanto un ratto. Certo ci ha tolto una stella con la sua ultima recensione. E forse è stato questo a uccidere Gust... Papà.